Salve, io sono Cirone. Dov'è finito Cirino? Cirino, Cirino. Eccomi, eccomi. Ciao Cirone. Cirino, quello che dici non è sincronizzato col movimento delle tue labbra. Lo so, ci sto ancora lavorando. Ah, capisco. Dovresti parlare un po' più piano. Così è più facile. Ho capito, ma io parlo sempre veloce. Va bene. Allora Cirino, com'è la vita in questo periodo? Beh, è bellissima! E perché? Beh, sono chiuso in casa tutto il giorno con la mamma e col papà. Davvero? E ti diverti? Tantissimo! Bene, sono sicuro che anche il papà e la mamma sono felici di questa situazione. Staranno tutto il tempo a giocare con te. Esattamente! Proprio tutto il tempo. Tutto, tutto. Beh, sì. A parte quando sono distratti a fare altro che è la maggior parte del tempo. Però io ho ciò che mi diverto. Bravo Cirino. Adesso cosa vuoi dire a tutti quelli che ti stanno guardando? Beh, voglio dirvi che ci vediamo presto. Questo è un esperimento. Bravo Cirino. Fai un bello inchino alla telecamera? Ok. Andiamo. Va bene. Ups, ho sbagliato le voci.